Io sono la nonna Violetta e ora mi sa se la pupa italiana, la muñeca sarebbe. La tradizione italiana della muñeca, del corazzone, che si fa la Pasqua. Ora mi sarebbe toccata cinque minuti, quando siamo alla quarantena, si toglie la muñeca di Pasqua. Però sennò questa fece non si lascia, a Pasqua si lascia, si piocchiera. La muñeca è per la nonna, il corazzone è per la famiglia. Il corazzone è per la famiglia, per tutto il mondo. La sera è sempre, tutti gli anni, la Pasqua. Si ha questa tradizione, però a noi è la brucia. Perché all'altra parte dell'Italia non si usa. La mamma è sempre la città. Ma la Pasqua dice che il venerdì s'accia. E il venerdì non si come, il venerdì s'accia. E poi, il sabato si. Il sabato, dopo cada uno, la mia mamma quando la sia, la mia mamma si ha la muñeca. Allora, ogni ora si arriva, la muñeca è già, e gli avevamo a fare la ciocioletta. Lo pina, di pina. Gli avevamo perché noi stavamo nella campagna. Gli avevamo nella campagna e gli avevamo a fare il pina. Gli avevamo nella botteggia di vino, eh? Gli avevamo, lo avevamo, lo avevamo e lo avevamo. E lo avevamo, lo avevamo e lo avevamo. E lo avevamo anche la pina. E la salame di pina. Tutti lo avevamo, visto quando avevamo, avevamo. E queste sono tutte le preparazioni. Ueva, crema, centro di valignia, azúcar, manteca. E lo che di limone. E la cacioca prima di 15 ormides ai c gerali guіль aspects. Lo mettiamo in canale. E i cibo aperti ma di azzucca. Leати staff le ponti e il passaccio. La c 골�za è rapida alle titte. La crema di leche, cada se llevo, se ponga un pochette di crema di leche. Miren lo que va, luego que tomo los huevos, que tomo todas las cosas, nada más. Ahora me voy a poner huevos, vamos a desolver los huevos. La mezcla con la mano. Y la masa, ya está. Ne dura dura, ni blandita blandita. Una cosa normal. Así. Ahora empezamos a cortar. Vamos a comenzar a hacer la muñeca, lo que va agitando y el corazón. Vamos a hacer esto. Ahora vamos a preparar la muñeca. Ahora vamos a hacer la muñeca con la mano. Vamos a hacer la muñeca con la mano y la cabeza. Bueno, acá se va la mano. Vamos a hacer la muñeca con la muñeca. Vamos a hacer la muñeca con la muñeca con la muñeca. Vamos a hacer la muñeca con la muñeca con la muñeca con la muñeca. se me le resuelo, hay una muñeca con la muñeca. Se mi arrotondite sono il corazzone. Questo è il corazzone. Non so se mi sale bene o male, non so se mi sale bene o male. La formica è quella con la città. Vado a vedere come sale. Questa parte è la cava, questa parte è la coltata. E vorremmo avere la patta. Questa è la correa. Allora la sembra sì. Questa è la cava che mi sale. Medio o medio? Questa è la mia goccia. Questa è la mia goccia. Ora se va a terminare così. Ora si faccia la clara e si mette al sugerimento. per andare a trattare e poi si fonga le competite e poi si fonga le competite che si fonga arriva dopo la piatta la pindola è blanca la muñeca è gita e poi si fonga le vestite bianche 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 queste sono tutte le muñette che si fonga le vengono e poi si fonga le vestite bianche e poi l'ho portata un po' di paura e niente di più dove c'erano le vestite? se fonga le vestite bianche le vestite bianche grazie per essere accompagnata e quindi mi restate molto grazie